Ehi ragazzi, forza, vi sto guardando, eh, siete tutti nelle vostre postazioni, mantenete la formazione, oggi dobbiamo vincere assolutamente tantissime partite E tu, sì, sto dicendo proprio a te, non hai ancora lasciato un mi piace? Che cosa stai aspettando? E poi dobbiamo arrivare a 400.000 iscritti, se la dobbiamo fare Forza, pallo per la nazionale, Forza Italia! Ciao a tutti, giocatori di calcio e benvenuti in un nuovo fantastico video, come sempre, Forza Italia Raga, oggi ci sarà la storia, non riesco nemmeno più a parlare Mettiamo subito la fascia da capitano, presto raga dovrò andare dal barbiere a tagliarmi tutto, capelli, barba, mamma mia, ormai divento una scimmia Allora, riscattiamo subito le ricompense, perché raga, c'è il pass nuovo e io fra qualche episodio mi shopperò tutto il pass, eh Allora, qui abbiamo solo delle monettine, abbiamo solo delle monete, guardate là sopra raga C'è addirittura Volcano, Gladiator, Azzurri, poi chi altro c'è Azzurri, Volcano, se raga ci facciamo tutta la formazione, un upgrade Allora, in classifica raga siamo secondi, possiamo iscriverci subito nella Lega Elite, che quasi quasi ci penso oggi Premio gol, apriamo Qualcosa di buono Smirnov raga, comunque sta salendo, eh Non è male avere uno Smirnov, già al 53 difensore che manca così poco, eh Allora, nell'ultimo video raga, avevamo fatto la carriera Mi mancano due partite, che dopo le giochiamo, perché voglio concludere questi, come si chiamano, i punti energia Voglio usarli tutti Purtroppo ho perso una partita che sono passato secondo E comunque qua raga si vinse, guardate a sinistra, la Town Division Il trofeo Town Division, che bellissimo raga Cioè guardate che bello Cioè sicuramente lo vinsi se arrivi primo Sicuro al 100% E poi guardate il primo, vinsi un giocatore Raga, quello è un giocatore leggendario o mitico? Mamma mia, tanta roba, eh Allora, Lega Elite raga Proviamo a giocare un po' qua oggi Mancano quattro giorni Iscriviti entro quattro giorni e due ore Dai, ci proviamo raga Iscrizione Ah no, inizia fra un giorno Ok No raga, non possiamo giocare Oh, mi dimentico ogni volta Ci sono così tante robe Vabbè, giochiamo, boh, domani Domani o dopo domani raga Allora, quindi Euro American Tornei Perché quattro? Ah, quattro ovviamente ricompense nuove Sì ma Bello quel portierino Manu Non è male Un altro portiere hanno messo Però no, grazie Allora, la Lega Elite non possiamo farla Tornei abbiamo vinto tutto L'Euro American Magari la rigiochiamo fra un pochettino Ci facciamo un uno contro uno Mmm, vediamo qua Boh, raga Ma tanto Si va a finire sempre nel solito campo Centrale Vediamo un pochettino Chi sarà Il nostro avversario 940, amiche No raga, ma mi devasta Se 940 Oh, non ho mai incontrato Mi sa uno da mille È possibile avere mille? È possibile avere mille, ragazzi? Deve avere tutto al massimo Eh, vabbè Non ha giocatori incredibili No, 84 Cosa sto dicendo? Sì, se li ha incredibili è come Guardate che bello è il campo Con al centro La coppa, raga Vabbè, ci proviamo Anche se a 940 Guarda come corrono Raga, corrono Uh Mamma mia Cioè, ho giocato l'ultima volta Il torneo dei bambini Adesso mi sembra di volare Mamma mia Numero, 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 numero Numero Distrutto Devastato Però, raga Contropiede Assurdo Numero fa qualcosa Spis No, qualcuno, raga Fermatelo Fermatelo Che si disintegrano Mamma mia Come corrono Come corrono Diego Mamma mia Diego Come ho fatto a prenderla Cioè, Spider-Man, raga Gli sei incollata la palla alla mano Al portiere Vanno troppo veloci, raga Oh, vi giuro Vanno troppo veloci Dopo aver giocato Al torneo dei bimbi Sei veramente Sembra di Mamma mia Maledetto Oh, sto provando comunque A tenere Premuto un po' più A lungo Come mi avete suggerito Alcuni di voi Nei consigli Qua sotto nei commenti Vamos Raga, vanno troppo veloce Menomeno Raga È combattutissima È combattutissima Sta a vedere che adesso mi fa gol Sto maledetto Sì, però Sì, però Non mi prende I difensori Maledetto Zoco Se guarda questo Che pazza Che amo Ha fatto gol 1 Mamma mia Imbarazzanti Imbarazzanti Sì, numerone Sì, numerone Sì, ma Raga Non mi prende i giocatori Se io mi devo Cioè, vabbè Dai, dai, dai C'è già finito il primo tempo Raga, è volato È volato Cioè, non voglio immaginare Se un giocatore A cento quanto corre Raga, eh Cioè, già è impossibile Dai, prendilo Sium Oh, già a 940 Gli sto tenendo così testa Raga Ed applausi, eh Cioè, solo un a zero Con un 940 È veramente tanta roba Un'impresa per me Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Vai, vai, vai Corre troppo Corre troppo veloce Diego, Diego Dai, Diego, Diego, Diego Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Era un'azione Buonissima Era Dai che ha sbagliato Eh, non ha sbagliato per niente Non ha sbagliato Raga, corrono come dei cavalli Cioè, non si riescono a prendere Dai che è mia C'è la tribuna Manco si vede Vai dribble Messi Fallaccio No, numer Raga, sono delle bestie Sono delle bestie Mamma mia Mamma mia Capitano, bravissimo Capitano, raga È morto per una pallonata Capitano Bravissimo, portier Bravo Guardalo Vai, capitano Sì, capitano Dai, qualcuno, raga Non fate andare troppo avanti Il capitano Mio Dio Mio Dio No Era buonissima Falsalo Bravissimo Sium, così Messi, messi, messi Bravo Let's go 1-1 Michele a casa Mamma mia Mamma mia, raga Un 4 Un 940 Non so più parlare Bravissimo Bravo, bravo, bravo Raga Non avevo più le parole Pensavo che mi fassesse gol Mi devo concentrare Diego Armando Mamma mia Numerino Qualcuno che gli va da contro Raga, che questo vuole andare in porta Lo vedo, eh Bravissimo Gladiator, vamos Sì, sì, sì Parti, parti, parti Parti, parti Dai, perché non parte? Perché non si faceva vedere? Gladiator Ha scheggiato l'attraverso Oh mio Dio Divento pazzo Divento pazzo, raga Mamma mia Oh, strano che devo scheggiare L'attraverso, raga, eh Mamma mia Fatevi vedere, fatevi vedere Fatevi vedere Al centro Oh, chi c'è? Mamma mia Spacco tutto se vinco Io disintegro tutto No Si numerino No, 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 no Placcalo che quel maledetto Si ha fatto No Mamma mia No No, bravo Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Qualcuno li fermi Qualcuno Ti prego Qualcuno fermi Col maledetto Mamma mia Oh mio Dio Oh mio Dio Non è ricordi pazzo Non è possibile finire i rigori Raga Con un 940 Diego Diego Armando 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Dai Volcano Dai Volcano Dai Volcano Dai Volcano Di là Let's go Let's go Mamma mia Si 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 Ti prego Volcano Ti prego Ti prego Ti prego Di là 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 Non mi sbagliare Messi Messi Non mi sbagliare Messi Messi Si Volcano Di là Di là Ti prego No Raga È folli Sai cos'è La finale dei mondiali No Dribble lo sbaglio Dribble lo sbaglio Raga Ho imparato a tirare i rigori Volcano Sto centrale Sto centrale Sto centrale Sto centrale Ma pensavo che l'avesse parata Non ne posso più Ma perché sta tortura Chi è Gladiator Gladiator Mamma mia Raga Only goal Only goal Ti prego Volcano Ti prego Ti prego Ti prego Di là Ma l'avevi presa Mamma mia Ma chi fa a tirare Fra un po' L'arbitro Diego Diego No Ti prego No Ti prego Ti prego Volcano Ti prego Let's go Ma perché Ma perché Ma perché Ma perché Dai Io ho 752 Lui 940 Dai Va Va via Non ti voglio mai più vedere Fuori Via dalla mia vita Raga dopo quello che è sul sesso Dovete supportarmi Mi raccomando Lasciando un bel mi piace Scrivendo tantissimi consigli Utilissimi qua sotto per me E vabbè Dai Io direi di Boh Io vorrei spegnere Tirare l'iPad fuori dalla finestra E andarmi a mangiare Un bel bombolone alla crema Vabbè Allora Modalità carriera Dai Almeno sfruttiamo un pochettino qua Dopo la batosta raga Perché devo continuare ad andare avanti qua Vediamo Coccodrilli Tanto per cambiare 168 Vai Australia raga E ovviamente tutti da 15 in su Belle le sue maglie Sembrano dei ladri Vamos Andiamo Andiamo mamma mia Sei da correre come dei cavalli impazziti A come delle lumache in letargo raga È fantastico Sì Tyrone 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 Gli fanno un fallo Lo sapevo Va a terra Come una peracotta Pigliatelo Certo raga che adesso è veramente soft Zoccare così eh Se prima mamma mia non riuscivo Prova a tirare forte Mamma mia raga Oh mio dio Ma avete ragionissimo Se l'ho tenuto di più E avete visto che tiro incredibile che mi ha fatto Cioè da lì un giocatore che ha 9 Farmi un gol così è incredibile Cioè raga Grazie Cioè mi date dei consigli assurdi Cioè all'inizio è ok Non è Non ci credevo molto Che Cioè veramente Tenevo più premuto Mi tirava più forte Pensavo che andasse molto più in alto eh È per questo che mi servono I vostri consigli Per migliorare Perché io devo vincere tutto Anzi Dobbiamo vincere Perché siamo una squadra Non forlo passare Dov'è la palla? Sì No Regalata così No Brutta brutta Fallino Bravino Ok Fatevi vedere Fatevi vedere Fatevi vedere Ma cosa fate? Ma perché vanno? Io non riesco a capire perché vanno di là E fatti tutto il campo C'è qualcuno là in mezzo Roma ha fatto un gol assurdo raga Guarda che roba Portiere Mani di mozzarella Yes Eh comunque è solamente Caracco Lì raga è brutta Lì raga è brutta Calcio di punizione da lì E mi fa gol sicuro Cento per cento Con chi tira Posto è gol È gol raga Oh invece no Scarso Ribattuta Gol di ribattuta Bravo Portiere Bravo Portiere Dai vieni Vieni qui Vieni No perché mi ha tirato What? Non farmi sti scherzi Portiere Da qui io tiro Boom Di ribattuta raga Oh mio dio Ho scoperto gli hack segreti di sto soco Guarda che roba No vabbè dai Proviamo da qua raga Boom Cioè dai Follia Ma come si fa a tirare così forte? Cioè ma saperlo prima Mamma mia E che sembra bellissimo Facile Ma con gli altri Con una squadra poi come prima Da 940 Non riesci a fare ste cose Perché non ti dà il tempo Di muoverti Di fare nulla E raga Abbiamo vinto E manca un'altra partita Vediamo adesso come siamo messi Io spero che quello che è primo Abbia perso qualcosa Se non è possibile che vinse solo Vediamo Raga ha vinto ancora Ha vinto ancora Ha vinto 5 a 0 contro gli orsi Taglialegna contro orsi Siamo contro i cinghiali adesso Mamma mia Bello sto torneo con tutti Sti animali strani Raga ha vinto un sacco Cioè ha preso un distacco atroce Incredibile Vai giochiamo contro i cinghialoni I cinghialoni Vediamo 172 172 Va bene Vediamo Poland Raga portiere forte 22 Ti farò gol comunque come prima da lontano Sì ma raga dovete andargli contro Raga Raga Ma what? Ma no Vabbè dai l'ho tirata C'è roba che mi rifaccio 300 autogol Io raga mi faccio quest'anno Cioè A furia di sti tiri all'indietro Cioè io devo smetterla di fare così Veramente Dai Dai fatevi vedere Cosa state facendo Cosa state facendo Ma dove Ma dove Dove pensate di essere Nel campetto di calcio della scuola Cioè questa È la nazionale Dobbiamo vincere la coppa Io tiro da qua Io tiro da qua Io tiro da qua Boom Mamma mia Eh si sente già un portiere più forte Portiere più forte raga Già si sente Guardano in mezzo Boom Mamma mia Boom Mamma mia Non ce la faccio Non ce la Mamma mia Tyrone Ti prego prendila Grazie per il regalo ciccio Sto portiere si farà sudare Vai in mezzo Un bel cross In mezzo C'è qualcuno Ovviamente La testa non c'è Perché è un giocatore a livello 9 Cosa si vuoi fare Con un giocatore di livello 9 Attenzione In mezzo Per lui Sergio 1-0 A casa singhiali Dobbiamo andare a prendere Italia legna Ma sarà dura raga Dai arbitro Fischia Fischia Ok raga 1-0 Non devo abbassare La guardia Comunque ho fatto 5 tiri 5 tiri Un gol Dai me la merito Tyrone 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 Oh mio dio Mamma mia Ma cosa state facendo Ma perché ve la fate fregare Oh mio dio Il bomber Johnson Sergio Li fanno fallo E non è rigore Tanto per cambiare Eeeh Qui ho proprio visto L'osso Del piede che gli si spezzava Cioè Un po' meno Questi falli Rama 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 Da lontanissimo Mamma mia Nella testa Gliel'ho tirata Rama 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 Ma Portiere da 22 Viola A casa A casa A casa 2-0 Nooo Bravissimi Bravi 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 Teniamola 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 raga Rama 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 Mamma mia Rama Mamma mia Rama Che giocatore Serviva proprio In sta squadra Di Nabetti Guardalo 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 Che vuole Vuole rifare gol Mamma mia Che tiro Raga 3-0 Abbiamo vinto Tanta roba Dimmi Che i tagli a legno Hanno perso Perché altrimenti Non riesco più a prenderli Cioè se vincono ogni partita Dimmi che hanno Cioè vabbè Raga dai Cioè raga 5-0 Fan solo 5-0 Ma come faccio 24-27 Mancano 20 partite Vabbè Raga Io spero Che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Tanti consigli Tanti commenti Siamo passati Primi Sicuramente Torneremo In Lega Oh mio dio raga Ma c'è Diamond Lega Diamond raga Dobbiamo arrivarsi Assolutamente Da me è tutto E ci vediamo Al prossimo video di calzo Ciao Ciao